Ultimamente abbiamo sempre fatto classifiche positive, i giochi più belli, e quello più bello, e il genere più bello, ecco adesso vorrei fare una cosa diversa, cioè una top delle cose brutte, dedicata ai peggiori sequel che abbiamo visto negli ultimi 30 anni, e ce ne sono, e ce ne sono, e fare questa classifica e metterla in ordine è stata un'impresa titanica perché sono stato sopraffatto dalla rabbia in più di un'occasione. Allora ci saranno 10 giochi messi nell'ordine che io reputo opportuno, ma chiaramente in questi casi ragazzi è tutto fottutamente soggettivo, con alcune menzioni d'onore che ho lasciato per la fine. Quindi, decimo posto, Mass Effect Andromeda, sì perché Mass Effect Andromeda ha avuto il grande merito di mettere a rischio il futuro di Mass Effect, cioè se oggi noi siamo ancora in attesa di novità sul successivo è grazie a Mass Effect Andromeda, sono chiaramente ironico. Un titolo che ha saputo perdere tutta la profondità rovolistica che apparteneva alla serie per prostrarsi sull'altare dell'action a tutti i costi e perdere quella emotività, quella capacità di empatizzare col giocatore che c'era stata anche in Mass Effect 3, il chiacchieratissimo Mass Effect 3. Ma niente a che vedere con il primo e il secondo in Andromeda, cioè due mondi totalmente distanti, mille miglia, per un titolo che complessivamente non è che fosse brutto, ma non aveva tantissimo di Mass Effect. Ecco, l'avessero chiamato in un altro modo, lo avremmo ricordato con sicuramente più sorrisi. Legato a Mass Effect ti ricordi tante belle cose, ma tante te le vorresti anche dimenticare. E non parlo dei bug di lancio, parlo proprio dell'infrastruttura del concept, della caratterizzazione dei personaggi, che niente avevano a che vedere con quelli leggendari delle prime tre iterazioni del brand. Speriamo, con tutto il cuore, che il prossimo titolo della serie possa essere ricordato per motivi diversi. Non l'opposto, Lost Planet 3. Questo forse se lo ricordano in pochi. Titolo che è stato frutto di una politica abbastanza discutibile da parte di Capcom. Perché? Il primo Lost Planet era un gioco meraviglioso, molto intimista, narrativamente importante, con un bellissimo gameplay. Bellissimo. Lost Planet 2 fu un esperimento, questo eccesso di cooperativa, questa voglia di trasformare un'opera meravigliosa in una commercialata. Funzionicchiava comunque ancora. Lost Planet 3 è stato un Ok, abbiamo provato a fare il multi, non ci è riuscito, ritorniamo a fare il single. Ma mancava la profondità del primo capitolo della serie. Quindi ciò che ne derivò fu un titolo senza né capo né coda, senza grande profondità, che voleva essere un po' tutto ma che non riusciva a essere niente. Una produzione che onestamente ricordo con una certa angoscia e che non consiglierei, se non per puro spirito di analisi e di osservazione, di allargamento dei propri orizzonti, per conoscenza. Ecco. Ottavo posto. Dead Space 3. La grande domanda è, perché se c'hai due giochi che funzionano devi cambiare? Ecco domanda a cui nessuno ha mai saputo dare risposta. Perché dopo aver fatto un Dead Space 1, che era leggendario e lo è tuttora, al punto da giustificare un remake che arriverà a breve, a breve, si spera, e dopo aver fatto un Dead Space 2, che pur perdendo quella profondità storica del suo primo capitolo, riusciva comunque a offrire un'esperienza degna di questo nome, in Dead Space 3 no. Facciamo la coppa. Ma perché? Se è una serie che si è sempre retta sull'intimismo, sul senso di solitudine, sull'angoscia, sulla preoccupazione, su... La coppa. Totalmente rovinata l'atmosfera, con uno spara-spara, che poco serviva in quel momento e che sicuramente ha contribuito, non poco, a porre fine alla serie, costringendoci a danni di buco e a un remake che chissà quando arriverà. Del primo, poi. Prima che... Prima che questa serie riprenda a carburare quanto ce ne vorrà. Vabbè. Settimo posto. Sacred 3. Allora, la grande domanda che tutto il mondo si pone è perché se c'hai un RPG incentrato sul loot, levi il loot? Perché? Perché che cosa ti spinge a questa autodistruzione? Perché? Titolo che non aveva, né la profondità ruolistica dei suoi predecessori, né tantomeno la componente compulsiva di gameplay, nella progressione, gioco di una pochezza disarmante che ancora oggi tutti gli appassionati ricordano, con angoscia irripetibile. È un titolo che ci ha suscitato veramente più dispiaceri che gioie, un titolo di cui io onestamente non ricordo aspetti positivi. Per quanto mi sforzi, non ricordo un aspetto positivo di Sacred 3. È incredibile? Provatelo e poi mi saprete sicuramente dire. Sesto posto. Ninja Gaiden 3. Tutti tre poi, se ci fate caso, tre il numero perfetto sta cippa. Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden 3. Titolo che ha sacrificato la sua profondità generale per essere un po' più commerciale. Non era un brutto gioco, sicuramente, ma anche qui la classe, la qualità, la purezza dei suoi due predecessori, totalmente rinnegata per creare un titolo che fosse un'esplosione incessante, con dinamiche di gameplay neanche così rifinite come erano quelle dei precedenti due. Insomma, un titolo che sì, giocabile, gradevole, se si è appassionati di quel genere, ma che se si apprezzano i due precedenti non può trasmetterti granché. Io l'ho vissuto veramente male, Ninja Gaiden 3, perché anche da un puntista narrativo non è che avesse tutte queste qualità. Gioco veramente trascurabile sotto tutti i punti di vista. Adesso è che poi la serie lì si è fermata. Tristemente. Quinto posto, Dead Rising 4. Allora, che Dead Rising sia sempre stata una serie abbastanza trash è innegabile. Il primo Dead Rising però aveva dalla sua, sì, il trash, ma anche una grande serietà di fondo, un messaggio di fondo importante. Dead Rising 2, stesso discorso, rapporto padre-figlia, una cosa molto intensa, seppur in un contesto trash in cui facevi cose anche un po' stupide a volte, perché c'era un perfetto equilibrio tra follia e serietà, profondità ed eccessi. Con Dead Rising 3 qualcosa è iniziato a scricchiolare, con 4 è crollato proprio il soffitto. Perché il gioco si è trasformato in un parco giochi del trash, in cui potevi fare un'infinità di cose senza senso, ma... A che pro? Ecco. Gioco che veramente io non riesco a consigliare, non riesco a ricordare positivamente, non riesco ad apprezzare da nessun punto di vista, se non il discorso del... Uh, che bello fare a pezzi tutti questi zombie, con la gonna mentre stai sul triciclo. Sì, vabbè, ma... Voglio dire, un gioco di zombie può divertire anche senza questo eccesso dell'eccesso, in cui tutto è ridicolizzato in maniera fin troppo forzata per risultare realmente divertente. Il primo, Dead Rising, resta... Resta... Per mille motivi. Quarto posto, Devil May Cry 2. Allora, Devil May Cry 2 è stato una sperimentazione. Ecco. Il primo, Devil May Cry, è forse uno degli hack and slash, degli stylish hack and slash, più belli della storia dell'umanità. Grandissima profondità narrativa, un gameplay di una qualità sopraffina per l'epoca, ma ancora oggi riesce a dare, insomma, la polvere a tante produzioni contemporanee. Dopo Devil May Cry 1, toccava fare una cosa sola, replicare quello in un altro contesto con la storia da portare avanti. No. Furono in grado di stravolgere l'essenza del gameplay e di rendere Devil May Cry 2 un titolo... No? Ecco, l'espressione descrive alla perfezione tutto ciò che io potrei dire con migliaia di parole. Perché? Ecco, la domanda è perché così? Tant'è, talmente fallimentare l'idea, il progetto, l'esperimento, che non l'hanno più... Torniamo indietro nel tempo, ecco, hanno fatti poi Devil May Cry 3, 4, eccetera, e hanno ripreso tutti la stessa formula originale di Devil May Cry 1, pur perdendo quella profondità narrativa che io avevo adorato nel primo e che poi non si è più rivista. Però il 2 sicuramente è... È stato il titolo che io... Uno dei titoli che io aspettavo di più all'epoca è una delle più grosse delusine che io abbia mai sperimentato. Terzo posto. Duke Nukem Forever. Allora, qui la puzza di fallimento si sentiva lontano un miglio. Un gioco di sviluppo per 15 anni che tutti aspettavano come un nuovo messia, come il titolo capace di rilanciare un brand famoso e un personaggio iconico. Fallimento ferocissimo. Gioco mediocre, veramente da tutti i punti di vista, anche tecnicamente, perché dopo lo sviluppo di 15 anni è normale che venga fuori un po' un delirio, ma a livello proprio di concept non riusciva a convincere. Un gioco che ha giocato, scusate il gioco di parole, troppo su alcune forzature narrative, su alcune forzature caratteriali del personaggio, quasi a volerlo scimmiottare più che rievocare. Non lo so, è un titolo che veramente non mi ha soddisfatto e che credo rappresenti forse il più grosso fallimento della storia, perché con uno sviluppo di 15 anni non si può uscire con un'opera del genere. Ed è un peccato mortale da te che poi di più non si è più visto da allora. Secondo posto, Metal Gear Survive, ragazzi, Metal Gear Survive. Cioè, come non fare un Metal Gear? Istruzioni per l'uso. Metal Gear Survive. Cioè, un'opera artisticamente inarrivabile, con una profondità narrativa che poche altre produzioni, videoludiche e non, hanno mai raggiunto, sacrificato sull'altare del mercato di massa per fare un survival, anche piuttosto mediocre. Ecco. Partente da una base narrativa senza senso e raccontante qualcosa di abominevole. Cioè, io veramente non ho avuto il coraggio di ritornarci su Metal Gear Survive una volta chiusa la prima run, perché è un titolo che rappresenta un'offesa, secondo me, al brand di appartenenza. Da tutti i punti. Sì, non è un survival così brutto da... Va bene, ma se noi confrontiamo la qualità artistica di un qualsiasi Metal Gear diretto da Kojima con Metal Gear Survive, ti viene da bestemmiare. Ecco, diciamolo con grande chiarezza e trasparenza. Per cui, titolo che secondo me, se non fosse mai uscito, nessuno non avrebbe mai sentito la mancanza. Su questo credo che potremo essere tutti d'accordo. E, al mio primo posto, toccato un po' nel personale e nel privato, dico Broken Sword 5. È, secondo me, il peggior sequel di sempre. Allora, doverosa premessa. Broken Sword è il mio gioco preferito, il primo. In assoluto. Quello che io ho giocato più volte nella mia vita e a cui sono più legato emotivamente, per mille motivi. Quello che mi ha fatto scoprire l'amore per la storia. Quello che mi ha fatto scoprire l'amore per mille cose e che io tuttora gioco periodicamente. Un titolo che ho amato alla follia e che mi spinse all'epoca, seppur in una certa distrettezza economica, a finanziare Broken Sword 5 con il Kickstarter che ci fu per svilupparlo. Con una discreta cifra. Poi è la... Questo qui. È la confezione. che conservo gelosamente. Un titolo che doveva riportare la profondità, la magia di un brand meraviglioso che negli anni ha avuto enormi alti e bassi. Un titolo che non ha saputo riportare niente di quello che era l'originale. I personaggi troppo legati al voler ricordare ciò che erano per riproporsi in maniera veramente convincente. Una storia banale, poco entusiasmante, priva di quei colpi di scena che hanno fatto grande, soprattutto il primo capitolo. Una progressione banale, fatta di enigmi spesso veramente squallidi e non minimamente stimolanti. Un titolo che, se potessi, mi dimenticherei, ma purtroppo non uscirà mai dalla mia mente. Da super appassionato della serie, devo dire quella che a molti apparirà come una bestialità. Cioè, ho preferito il 3 e il 4 a questo. Che è tutto dire. Che è tutto dire. Perché quantomeno dal punto di vista narrativo funzionavano, avevano un senso. Il 5, manco quello. Manco quello. Cioè, il 5 riesce veramente a convincere solo da un punto di vista grafico, stilistico. Perché comunque ho apprezzato quell'evoluzione stilistica del brand originale, diciamo. Ma da tutti gli altri punti di vista è stato il dolore più grande che ho mai provato di fronte a un videogioco. Perché sono arrivato con aspettative surreali, forse eccessive, che poi è il motivo per cui io tendo sempre ad abbassare un po' le aspettative su quasi tutto, a chi mi ascolta. Ma che mi ha fatto veramente male da appassionato. Perché credevo che il team di sviluppo sarebbe stato in grado di farlo rinascere in maniera veramente convincente. Cosa che non è accaduta, è che il gioco non ha avuto poi un seguito ulteriore, ma non si è mai neanche ipotizzato che potessi avere dei seguiti o degli approfondimenti ulteriori. Ha detto, vabbè, abbiamo chiuso, arrivederci, grazie. Ecco, dimentichiamocene. Per me, Broken Sword finisce con 4. Comunque, ragazzi, direi che questo è tutto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Della mia top, che poi alla fine è una flop, ma i peggiori, i top peggiori sequel. Fatemi sapere voi quali sono i vostri peggiori sequel. Quali sono le cose che più vi hanno addolorato, quelle che più vi hanno deluso. E in che ordine le mettereste. Noi ci vediamo settimana prossima per un'altra classifica. Su cosa sarà, lo scoprirete.